ciao a tutti ragazzi amici buongiorno un brevissimo video perché qui abbiamo il poseidon mini qui abbiamo le batterie del poseidon mini poseidon mini batterie perché allora questo video in buona sostanza è perché abbiamo la possibilità di alimentare la barca con due tipi di batterie e altre configurazioni quindi batterie poseidon mini andiamo a vedere subito eccoci allora vi stavo dicendo prima due tipologie di batterie andiamo a scattare insieme batterie lipo questa è una questa è l'altra eccoci qua allora 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 in buona sostanza anzi in buonissima sostanza quindi questa la leviamo un secondo la barca vi arriva con batterie lipo da 5.000 milliamper 18,5 volt ok quindi vi arriva con questa batteria una sola batteria al contrario del al contrario scusate del poseidon allora però come magari vi abbiamo spiegato in altre in altri video il poseidon mini può essere alimentato sia con batterie 5s che batterie 6s quindi o da 5.000 milliamper 5s oppure abbiamo quella più grande da 6.000 milliamper ed è da 6s quindi da 22.2 volt vediamo qua anche a confronto vedete che le batterie vabbè quella da 6s questa è una cella in più rimane più piccolina quella da 5s quella da 6s è un amperaggio maggiore di milliamper quindi è un attimino più grande quindi potete andare a selezionare o quelle da 5s o quelle da 6s ricordatevi sempre come abbiamo visto nei video precedenti che devono essere sostituito il settaggio nel radiocomando una volta installate le batterie perché altrimenti vi dà sempre e solo esclusivamente errore di low voltage poi 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 un'altra cosa ognuna di queste batterie quindi se comprate non so partiamo da dalle 5s quindi se partiamo dalle dalle 5s quindi la barca vi arriva con questa batteria se per caso poi nel basket aggiungete un'altra batteria sappiate che la barca può funzionare o con batteria singola quindi una batteria all'interno della barca collegata al jack poi andiamo a vedere oppure due batterie collegate in parallelo quindi insieme ovvero aspettate che vado a prendere anche l'altra qui abbiamo due bellissime batterie 5s 5.000 miliamper le potete utilizzare una volta oppure insieme collegate ecco ricordatevi una cosa che se le volete collegare utilizzare collegate dovete prendere a parte questo accessorio quindi che vi permette di utilizzarle entrambi affiancate posizionate sul fondo della barca ma collegate insieme quindi una batteria va di qua l'altra batteria va di qua e così vengono collegate questo lo vado a collegare al pin adesso andiamo a vedere della barca ok stessa cosa per le 6s quindi potete collegarle assieme qual è la differenza da avere una utilizzare con una batteria o due batterie insieme allora nel senso vabbè la praticità magari di non dovere se fate molti viaggi consecutivi cambiare batteria quindi aprire chiudere oppure il fatto comunque di avere un amperaggio perché insieme ci si sposta un amperaggio di 10.000 miliamper quindi la batteria vi dura di più adesso andiamo a vedere per il per la connessione diretta sulla barca così almeno avete un'idea di quello che vi sto dicendo ma è molto semplice basta connettere il gioco è fatto veramente super easy eccoci qua perfetto allora come vi stavo dicendo quindi le batterie saranno alloggiate orizzontalmente nella parte interna della barca con del belcro ok quindi non faccio altro che collegare il pin femmina con quello maschio della barca beh adesso si accende non è connesso il telecomando però per darvi una un'idea ok perfetto dal momento in cui vado a collegare una sola batteria scollegherò ma allora questo lo possono che lasciare attaccato nel senso che questa parte qua se l'acquista da parte sono belli strong i cavi la potete comunque lasciare attaccata andata a collegarci solamente una lipo e non cambia assolutamente nulla oppure la potete collegare direttamente al jack di ricarica allora quindi questa la potete collegare direttamente qua va bene non cambia niente però in buona sostanza questo sdoppio vi dà la possibilità di utilizzare la le performance l'amperaggio di due batterie al posto di una molto bene stessa cosa viene fatta sia con le 6s che possono essere connesse anche loro in parallelo chiaramente non si fa una 5 e una 6s insieme le batterie devono essere sempre uguali quindi questo è poi ecco un'altra informazione molto speciale sulle batterie adesso andiamo a vederla eccoci qua di nuovo il discorso qual era relativo poi alla carica delle batterie quindi ricordatevi sempre che le batterie lipo devono essere caricate e gestite nel migliore dei modi quindi una volta che le avete caricato utilizzate la barca mi raccomando dovete attendere qualche minuto quindi almeno una trentina di minuti prima di caricarle lasciarle affreddare poi una volta che le caricate fate sempre il balance dal vostro caricabatterie quindi l'opzione balance per le 6s 22.2 volt le mettete in carica a 2 ampere come media state bassi perché più bassi sono più tempo ci vuole ma le batterie vi durano di più perché si caricano più lentamente una volta che sono cariche e se non utilizzate e dovete metterla a riposo ricordatevi di farle di fare lo storage quindi selezionate lo storage direttamente dalla vostra radio scusate dal vostro caricabatterie e a 0 8 1 ampere massimo quindi non di più e le lasciate andare tranquillamente le batterie si sistemeranno nella condizione tale per cui resteranno a riposo e potrete ricaricarle tranquillamente la prima volta che andrete a pesca questi sono dei consigli molto 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 utili mi raccomando ragazzi avete quindi due possibilità di utilizzare e di sfruttare al massimo le performance del vostro nuovo poseidomini poi se avete domande dubbi oltre le delucidazioni sapete dove trovarci o tramite il nostro sito web la sezione contatti numero di telefono oppure tramite la nostra email ciao ragazzi alla prossima